Carissimi, bentornate ad un altro appuntamento di Espresso Trivlo sul canale YouTube. Oggi parleremo di backup. Per i computer di casa si fa con aggeggi di questo tipo. Per questi si fa usando il cloud. Ma per i siti web, come si fa il backup? E soprattutto, conviene? Quali sono le opzioni? Vediamolo subito. Bene, bene. Allora, senza perdere tempo, vediamo subito le tre opzioni che ho scelto per il backup dei siti web. Allora, visto e considerato che il 90... 95? 99? Chi lo sa? Di certo subito sopra al 90% dei siti su internet sono basati su WordPress. Quindi, due su tre delle opzioni sono appunto dei plugin per questa piattaforma. Il primo è gratis. E lo vediamo subito. Si chiama All-in-One WP Migration. Disponibile sul sito WordPress.org. C'è anche la versione italiana. e la cosa interessante di questo plugin, oltre che ad essere gratis, è la sua semplicità di esecuzione e la possibilità, se scorriamo, anche di avere estensioni cloud per lo storage con il supporto premium che dà vita all'estensione illimitata gratuita e cioè vari update senza dover pagare un fee o un prezzo annuale. Questo per chi vuole fare il backup direttamente su un hard disk esterno che potrebbe essere visto come Dropbox, come un FTP, Google Drive, Amazon, eccetera, eccetera. L'altra cosa interessante di questo plugin è che c'è dipendenza zero e cioè il plugin richiede nessuna estensione PHP e funziona con tutte le versioni di PHP dalla 5.2 in poi. Al momento la versione di PHP è leggermente superiore alla 5.2 però dipende anche dal hosting provider che utilizziamo. Alcuni hanno delle versioni PHP più aggiornate, alcuni ne hanno più vecchie e quindi dipende che ci potrebbe essere compatibilità. Essendo questo plugin invece compatibile dalla 5.2 in poi, beh, vuol dire che funziona ovunque. In più, se scorriamo sotto, vediamo gli hosting supportati e ce ne sono parecchi. Digital Ocean, Bluehost, tra i più famosi, SiteGround, che è il mio preferito, Dreamhost, GoDaddy, WP Engine, va bene, e One&One. Ma vediamo come funziona al suo interno. Bene, allora una volta entrati nella dashboard di WordPress, andiamo sul classico aggiungi nuovo plugin, cerchiamo All-in-One WP Migration ed eccolo qui. Vediamo subito un pannello, molto semplice, esporta, importa e la lista di backup. Andiamo su esporta. Dashboard molto semplice. Abbiamo le opzioni avanzate, che sono quelle per decidere di non esportare i commenti in spam, non esportare il database. Insomma, se abbiamo qualche preferenza opzionale su cosa includere o non includere in questo backup, da qui lo possiamo decidere. Altrimenti, se vogliamo fare un backup intero, esporta su file, Dropbox, FTP, ma noi lo vogliamo fare sul file. E parte il backup. C'è un controllo compatibilità delle estensioni. Questo è molto importante perché nel momento in cui facciamo il backup, se poi andiamo a metterlo su un server nuovo, ci potrebbero essere problemi nel momento in cui lo importiamo. Quindi è giusto che faccia un check. E parte l'archiviazione. Abbastanza veloce, devo dire, visto che è considerato la grandezza del sito. Esporto il database. Bene, concluso. Download localhost. Un giga. Quindi preparatevi anche per avere una connessione abbastanza veloce per fare il download. Bene, fatto. Se non lo vogliamo scaricare subito andiamo sotto il menu backup, qui a sinistra, ed eccolo qui. Scarica, ripristina o cancella. Fatto un minuto fa, un giga e zero due. Allora, primo problema di questo plugin, ma in generale di tutti i plugin che sono gratis. Supporto tecnico. C'è, ma è sicuramente minimo ed è il più delle volte limitato al sito wordpress.com. C'è sempre un forum di supporto tecnico. Funziona? Non funziona? Per carità, non sta a me deciderlo. Tuttavia, quando siamo veramente nella merda, secondo me il supporto dato dal forum gratis o anche la possibilità, almeno visto quello che c'è scritto qui, richiede il nostro aiuto gratuito, se non è estremamente veloce, potrebbe creare alcuni problemi, soprattutto se è un sito che monetizziamo. Secondo problema di plugin che fanno il backup, e di questo in particolare, è che non c'è l'opzione per fare lo scheduling, quindi per decidere quando fare il backup in automatico. Le versioni premium ce l'hanno solitamente. Parleremo di backup buddy in un attimo. Tuttavia, questo seppur semplice e istantaneo, non ha l'opzione per prenotare un backup. Terzo problema che invece accomuna tutti i plugin, e cioè la lentezza del sito una volta installato il plugin. Per quanto può essere scritto bene, è comunque l'ennesimo plugin che viene installato, e questo rende tutto il sito sicuramente più lento durante i caricamenti. Non solo, se qualcosa va male sul sito e quindi ci sono incompatibilità con il plugin di backup, beh, primo, il backup non riesce, secondo, il sito gira molto ma molto male. Andiamo a vedere la seconda opzione, leggermente meglio di questo. Questa è l'opzione che fino a poco tempo fa utilizzavo su tutti i miei siti, e dico fino a poco tempo fa perché, perché, perché. C'è una terza soluzione che vi andrò a far vedere in un attimo. Backup Buddy è scritto diretto e registrato da iThemes, che sono gli stessi ragazzetti che hanno fatto iThemes Security Pro, un altro plugin per aumentare la sicurezza del proprio sito basato su WordPress, interessante, ve lo consiglio. Ma torniamo a Backup Buddy. L'interfaccia è molto molto chiara. C'è la possibilità di fare il backup del solo database, backup completo, solo deiThemes e quindi dei temi e solo dei plugin, fantastico. Se vi interessa c'è anche la parte della libreria media, ma alla fine è poco interessante. Per quanto ci riguarda basterebbe cliccare sopra Complete Backup ed è tutto automatico. La figata è che sotto le impostazioni di questo Complete Backup possiamo andare un po' più in maniera avanzata a settare il nostro tipo di backup. La cosa più importante è, vediamo un po' se la ritrovo, è nei settaggi, e cioè sotto Advanced Settings ed eccolo qua, Technical and Server Compatibility. Ci sono due possibilità, Default, Global Backup Mode, Classic e Modern. Per esperienza personale è meglio andare sul Classic. E se scendiamo un po' più giù, vediamo che il database, anche qui il metodo strategy, è meglio usare quello di default, cioè il PHP Based. Per quanto riguarda lo zip metodo strategy, io lo lascerei Best Available. Questa è praticamente l'opzione che comprime il file di backup una volta completato tutto il salvataggio. Ma torniamo a bomba sul menu backup. Schiacciamo Complete Backup e vedremo che il plugin incomincia a lavorare. Ricordiamo sempre che mentre il plugin lavora per fare il backup, il sito rallenta. Questo perché? Perché i plugin usano le risorse del server e specialmente se il server è condiviso, e cioè è un server dove ci sono altri siti di altre persone perché magari vogliamo pagare un po' di meno, questo è un processo che prende tempo, tempo, tempo. specialmente se il sito incomincia a essere di un certo livello, di un certo peso. Una volta cliccato sul Complete Backup, il plugin incomincia a lavorare. Per velocizzare i tempi ho fatto un backup del database soltanto, invece di fare il completo. Eccolo qua. Appare subito sotto e noi possiamo fare Download per scaricarlo sul proprio computer. La figata di Backup Buddy è che possiamo programmare anche i backup. Clicchiamo su Schedules e vediamo. Diamo il nome al programma, il tipo di backup. Ogni giorno, due volte al giorno, qua non l'ha nemmeno tradotto, ogni ora o in 5 minuti, ma io direi anche ogni giorno va bene. Data, destinazione. Se lasciamo remota, verrà salvato il file zip sul sito web e poi andremo a scaricarlo. Dopodiché, Add New Schedule. Anche qui, due problemi. Primo, bisogna ricordarsi di andare a cancellare il file di backup sul proprio sito, perché altrimenti ogni giorno avremo megabyte su megabyte, altrimenti anche parliamo, nel mio caso, di gigabyte di backup. E quindi andremo a finire con lo spazio sul web che finisce prima di subito. Secondo problema, velocità. Durante il backup il sito web rallenta. Terzo, avevo detto due. Terzo, se il plugin è sempre attivo, il sito, anche se non fa il backup, è comunque più lento. Andiamo a vedere perché. Questo è un test fatto con gtmetrics.com del sito, non ottimizzato, ma comunque del sito, senza plugin backup buddy attivo. E questo è un test fatto sullo stesso identico sito con il plugin del backup attivo. Si è pappato diversi secondi in più. Questo per dire cosa? Che c'è la terza opzione, per me quella migliore di tutti, che va bene sia per WordPress, sia per Geeklog, se qualcuno lo usa ancora, sia per Joomla e sia per siti statici con l'HTML, e cioè il backup a livello server. Personalmente uso SiteGround, che è uno, se non il migliore, piano hosting che c'è in Italia. Ho fatto una recensione basata sulla mia esperienza di passaggio e migrazione da un hosting differente a questo, e se volete c'è anche il link sotto. La cosa bella di SiteGround è che ha un pannello molto semplice. Una volta fatto il login, si va su hosting, ci sono tutti i vari servizi con informazioni varie dell'IP, account, posizione del server, molto importante che può essere decisa da noi, quindi io ho deciso Milano. Dopodiché c'è la classica interfaccia col cPanel. Uno potrebbe dire, sì ma il cPanel lo usano tutti, qual è il problema? Il problema non è il cPanel, che è solo un'interfaccia che sono quasi tutti gli hosting buoni. Il punto è il server di SiteGround, che è quello che dà a disposizione degli utenti, il supporto tecnico, quindi l'assistenza che dà ai clienti, e il tipo di backup, l'interfaccia del backup. Se scorriamo, abbiamo qui tutta una serie di tools, molti interessanti sono quelli per WordPress, quindi installazione con un click soltanto di WordPress, ma questo lo faremo in un altro video, fino ad arrivare a gestione backup. Questo è il cPanel backup, quello classico di tutti i cPanel. Ma poi c'è il backup tool di SiteGround, e qui troviamo la figata, perché SiteGround gestisce automaticamente il backup giornaliero del sito. Quindi, a livello server, se questo è il sito, questo è il server, quindi il server fa il backup del sito, automaticamente, una volta al giorno, senza problemi. Quindi non c'è bisogno di plug-in, di problemi con compatibilità tra i vari plug-in, e soprattutto di risorse che vengono mangiate dal plug-in stesso, e quindi che rendono il nostro sito più lento. Se clicchiamo sul tab Ripristino Backup, vediamo il calendario, vediamo Informazioni aggiuntive, Backup di sistema fatto alle 3.16. Qui ci sono informazioni singole, tuttavia ci saranno più informazioni in caso noi vogliamo fare una cosa, e cioè creare un backup. Il backup on demand è praticamente lo stesso identico tipo di backup che fa automaticamente SiteGround, ma ci dà la possibilità di farlo in questo momento. Mettiamo che vogliamo fare un sito totalmente nuovo, vogliamo aggiornare il PHP, vogliamo aggiornare dei codici, quindi vogliamo un backup adesso senza aspettare quello di SiteGround. Bene, clicchiamo qui dentro, scriviamo Test, si preme su Crea Backup, e lui magicamente partirà con il backup. Altrimenti, se vogliamo che sia lui a gestire il backup una volta al giorno, basta lasciargli lo fare, e poi quando abbiamo problemi, se il sito è stato hackerato, sappiamo dove mettere le mani perché non siamo dei nerd, o semplicemente è andato qualcosa male, abbiamo cancellato qualcosa, o il database è stato corrotto, basta scegliere il giorno, cliccare su Backup di sistema, piccolo riassunto, e qui possiamo decidere il tipo di backup, account completo, solo i file, solo il database, o è solo l'email. Una volta cliccato su account completo, scrolliamo in basso, e clicchiamo Ripristina. Attenzione, il ripristino del backup seleziona e sostituirà i tuoi file attuali, però in pochissimo tempo, il sito riprenderà a funzionare con tutti i dati presi dall'ultimo backup, e cioè 24 ore prima. Non male, no? Senza contare la velocità estrema e dei server di SiteGround e dell'assistenza. Non sappiamo qualcosa su come fare il backup? Vogliamo leggere qualcosa in più? Perfetto, clicchiamo su assistenza. Possiamo fare una domanda che va a cercare tutti i contenuti all'interno del database informativo, altrimenti abbiamo le risorse popolari, e cioè quelle riguardo il sito web, i servizi WordPress dedicato, o riguardo le mail. Non vogliamo perdere tempo e quindi vogliamo contattare direttamente il supporto tecnico? Bene, richiedi l'intervento del nostro team. Via telefono, chat o ticket. Contattaci qui. Assistenza WordPress. Clicchiamo. Si descrive il tipo di problema e si continua. Fantastico, molto semplice, istantaneo. Se poi vogliamo aggiungere dei servizi, modificare o fare l'applicazione, del nostro hosting, basta aggiungere dei servizi cliccando sul tab e vediamo il tipo di hosting. Io, per quanto mi riguarda, andrei direttamente sul GrowBig se si ha un sito bello grande o si è già in una fase avanzata del business su internet. Altrimenti si può andare tranquillamente sul pacchetto iniziale startup. Bene, detto questo vi saluto a un prossimo appuntamento molto a breve su come installare WordPress in un click. Per tutte le altre informazioni, EspressoTriplo.com per vedere gli ultimi post del blog o per iscriversi alla newsletter del sottoscritto. EspressoTriplo.com Un saluto da Angelo Bandiziol. Alla prossima. Ciao.